Tra poco ricominciano le lezioni, all'Università Cattolica ci sono già tanti studenti comunque in giro, ce ne sono tanti che si sono anche iscritti e si stanno iscrivendo, siamo nel pieno delle immatricolazioni, c'è un primo bilancio che si può fare? Sì, effettivamente la vita in università ha ripreso da qualche settimana perché sono iniziati i precorsi, siamo nel pieno delle immatricolazioni, devo dire che anche quest'anno lo diciamo sotto voce perché i dati non sono ancora definitivi ma siamo molto soddisfatti perché sia per la Facoltà di Economia che per la Facoltà di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali stiamo arrivando a saturare tutti i posti, quindi anche presso la Residenza, il Collegio Sant'Isidoro i posti sono stati tutti saturati, quindi diciamo che la sede di Piacenza ha confermato anche quest'anno la sua attrattività. Attrattività non solo per i piacentini? Assolutamente no, infatti presso la Residenza, presso il Collegio e presso altre strutture hanno preso posto studenti che arrivano praticamente un po' da tutta Italia proprio ieri addirittura abbiamo ricevuto anche circa 40 studenti stranieri. C'è qualche numero che si può dare? Beh, le matricole al momento, ma ripeto siamo ancora nel pieno delle immatricolazioni, delle lauree magistrali, delle lauree triennali per il momento hanno superato le 700 quindi contiamo di arrivare intorno alle 900-950 anche quest'anno che sarebbe un ottimo risultato. Grazie per la visione!